Purtroppo ci è stato segnalato un presunto avvelenamento, ancora sono in corso accertamenti da parte dei veterinari e purtroppo non è la prima volta che capita in questo parco che siano state ritrovate delle polpette avvelenate. Ancora, purtroppo, esche avvelenate in città. Questa volta i bocconi killer sono stati ritrovati nei pressi di via Umbria, via Genova e via Bologna, vittima una cagnolina. Alle segnalazioni che così si sono moltiplicate nelle ultime ore ha risposto prontamente l'assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali del comune di Arezzo, Giovanna Carlettini, che ha provveduto ad attivare la polizia municipale e le guardie zoofile per intervenire nelle aree dove è stata segnalata la presenza dei bocconi tossici. Senza l'aiuto di telecamere e senza nessuno che ha visto è praticamente impossibile risalire a chi ha fatto questo gesto assurdo. Secondo noi sarebbe necessaria una telecamera, ma sarebbe necessaria in tutti i parchi pubblici di Arezzo e in più sarebbe necessaria anche un po' di manutenzione per poter anticipare una tragedia, tagliare l'erba e quindi rendere meno facile il lavoro a chi fa questi gesti veramente incivili.